Parte il regista della Nazionale, picchia forte Giannelli, Shikawa non la tiene in campo, allora Mengozi proprio per Giannelli che cerca Enderson che picchia fortissimo, la palla tenuta viva però da Milano in qualche modo, allora Giannelli serve di nuovo Enderson e questa volta lo statunitense non lascia a scampo a Milano, 15-17. Giannelli a livello tattico, con la ricezione buona, trovi tu, salto, ragazzi ricordiamoci Patrice, stiamo lì, se la palla va dietro ci spostiamo e mettiamo le mani dritte. Picchia ancora fortissimo, Pesaresi la tiene viva, Porro a cercare Gjokic che attacca sulle mani del muro, la tiene Colaci, Giannelli arriva a Enderson, picchia fortissimo il 18-23. Grande rigiocata di Giannelli con una bomba atomica di Enderson, proprio. Adesso va Enderson sul punteggio di 7-7. Picchia forte, trova Leis, proprio sul connazionale Gjanski, Leis che è passo 7-8. Ma che percentuali ha Enderson al servizio? Una roba da paura. E questo è un cambio palla molto ma molto importante. Porro a cercare Partri dall'altra parte, Murato addosso da Mengozi e Enderson. 10-14. E qui è stato ancora una volta, Matt Enderson. Che prestazione!